Ali di pipistrello addio con questo circuito di esercizi. Sono Katia Vaccari, personal trainer, e oggi andremo a fare un circuito mirato 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 per il tuo tricipite, quindi questo muscoletto fastidiosetto. Ricorda che questo è un circuito proprio solo solo per il tricipite, quindi mi raccomando non partire e fare solamente questo, perché comunque il dimagrimento localizzato non esiste e cerca sempre di abbinare esercizi per l'addome, per le gambe e cardio generale, ok? Partiamo con il primissimo esercizio, sono le flessioni inverse su sedia, quindi da qui ti appoggi alla sedia, porti i piedi leggermente avanti, la schiena deve essere perpendicolare al pavimento, ok? Stringo l'addome, apertura qua bene delle spalle, scendo giù così, spingo con il braccio, quindi non è il gluteo che sale e scende, ma il braccio che sale e scende, si flette e si distende, il gomito deve essere stretto altrimenti non lavora il tuo tricipite. Ne facciamo dieci, quindi ispiro, uno, due, stringi addome, tre, guarda avanti, quattro, stretto il gomito, cinque, sei, dinamica la spinta, sette, otto, nove e ancora uno, dieci, perfetto, stop. Andiamo adesso ad utilizzare i nostri amati pesetti, quindi pesetti che puoi utilizzare anche delle bottiglie, gomito su bene alto, fletto un po' le ginocchia, distensione completa dietro del braccio, fai attenzione a non spingere in questo modo, ma blocca bene il movimento, per cui inspiro e fuori aria, uno, due, guarda avanti, tre, inspiro distendo, quattro, cinque, sei, sette, otto, tieni su alto il gomito, nove, rimani su, dieci, nove, otto, sette, braccio bene teso, spalle bene in avanti, tre, due, uno, stop, scegli mi quale spalle, ok, sempre con i pesetti, andiamo a fare questo, mi metto in ginocchio in modo che tu mi possa vedere bene, allora, peso in mano, gomito su bene verso il soffitto, afferro quindi il mio braccio, scendo dietro e distendo, ok, non è la spinta così, ma è scendo dietro stretto e distendo, ok, quindi uno e due, andiamo a fare cinque per braccio, tre, quattro, cinque, cambio, occhio l'esecuzione, altrimenti tutto perde efficacia, i particolari che sono importanti, cinque, quattro, tre, due, e stop, unisco le mani dietro, gomito stretto, distendo cinque, quattro, stretto il gomito, non aprirlo così, tre, due, e stop, perfetto, ultimissimo esercizio, andiamo a fare dei push up, anche se so che li odi, però li andiamo a fare sulla sedia, così sono un pochino più alti, ok, che fa un po' meno fatica, le mani vengono in appoggio, le gambe distese, discendo, ne facciamo solo tre, stringo l'addome e scendo, tre, gomito sempre stretto per lavorare con il tricipite, due, uno, e stop, chiaramente questo circuito lo puoi, diciamo, aumentare, aumentando il numero di ripetizioni, e poi, come ti dicevo, abbinalo, mi raccomando, ai esercizi per le gambe e per l'addome, perché altrimenti non è sufficiente, ok? Tutti questi esercizi li trovi nei miei programmi di allenamento home fitness, che puoi andare a leggere, trovare, cercare sul mio blog www.yourpersonaltrainer.it Un abbraccio, ciao!